Dal libro del Siraccio Signore, Padre e padrone della mia vita, non abbandonarmi al loro volere, non lasciarmi cadere a causa loro. Chi applicherà la frusta ai miei pensieri, al mio cuore e alla disciplina della sapienza? Perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino impuniti. Perché non si moltiplichino i miei errori e non aumentino di numero i miei peccati. Io non cada davanti ai miei avversari e il nemico non giurisca sul mio conto. Signore, Padre e si è Dio della mia vita, non mettermi in balia di sguardi sfruttati e allontana da me la concupiscenza. Sensualità ed i pibili non si impadroniscano di me, a desideri vergognosi non mi abbandonare. Figli, ascoltate l'educazione della bocca, chi lo osserva non si perderà. Il peccatore è vittima delle proprie labbra, il maldicente e il superbo vi trovano in ciampo. Non abituare la bocca al giuramento, non abituarti a nominare il nome del santo. Come uno schiavo, interrogato di un contico, non sarà senza limiture. Così chi giura e ha sempre in bocca, Dio, non sarà esente da peccato. C'è un modo di parlare che si può paragonare la morte. Non si trovi nella discendenza di Giacobbe. Dagli uomini di chi tutto ciò si è respinto, così non si rotoveranno nei peccati. La tua bocca non si abitui a un po' di carri solani. In esse, infatti, c'è motivo di peccato. Ricorda, tuo padre e tua madre, quando siedi tra i grandi, non dimenticarti mai davanti a costrui e per abitudine non dire sciocchezze. Potresti desiderare di non essere nato e maledire il giorno della tua nascita. Un uomo abituato a discorsi ingiuliosi non si correggerà in tutta la sua vita. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento. Bene, abbiamo ascoltato questo edificante, brano, tratto dal Libro del Siracide. Veramente, come sempre molto profondo, è una preghiera nella prima parte, una preghiera rivolta al Signore, una preghiera davvero bella e davvero sabiente, che applicherà la frusta ai miei pensieri, al mio cuore e alla disciplina della sabienza. Perché non siano risparmiati i miei errori e i miei peccati non restino impuniti. Perché non si moltifichino i miei errori e non aumentino di numero i miei peccati. Io non cada davanti ai miei pensieri e il nemico, cioè il diavolo, non gioisca sul mio conto. Queste parole sono veramente straordinarie e certamente ci invitano a un grande confronto con esse. Chi di noi è capace di fare questa preghiera, Signore, applica la frusta ai miei pensieri e puniscimi dei miei peccati. Noi subito pensiamo, e facciamo bene per carità, alla misericordia del Signore, ne avvochiamo, no? Ma l'uomo che ama davvero il Signore, ci dice il testo, implora prima la sua giustizia, prima della misericordia. E implora prima la sua giustizia per se stesso, non per gli altri. Dice, Signore, punisci i peccatori. Se punisci me, i miei peccati non restino impuniti. Dice, Abba, Padre, io ho peccato, io. Quindi castigami per farmi ravedere e purificare finché i tuoi santi occhi non trovino in me macchia. Certo, è l'occhio che poi c'è anche la misericordia, no? Ma la misericordia viene dopo questa invocazione, ecco, del giusto che desidera essere purificato dal male, e quindi non abusare della misericordia di Dio, dicendo, vabbè, sì, ho fatto quest'altro peccato, tanto il Signore mi perdono un'altra volta, no? È anche un modo di mostrare la grande riverenza che si deve avere verso la misericordia di Dio, no? Che è tanto santa e innata nel Signore che andrebbe pronunciata e invocata con misura per non commettere irriverenza e non in maniera troppo faciluna, insomma, e grossolana, diventando poi veramente uno, appunto, uno strumento di abuso, no? Ecco, dopo aver invocato questa disciplina, anche questo rigore del Signore nei confronti dei nostri errori, perché il giusto è rigoroso con se stesso e misericordioso con il prossimo. Quindi dice, Signore, con me fai così, però poi con gli altri sii clemente, sii buono, ecco, trova altri modi per correggerli, ma con me non ti preoccupare, quello che devi fare, farlo. Se devi farmi passare attraverso qualche bella tripolazione per purificarmi, vai tranquillo, non ti preoccupare. Questa è grande sapienza, ed è grande chi sa pregare in questo modo. E poi prosegue, non mettermi in balia di sguardi sfrontati e allontana da me la concupiscenza. C'è la seconda parte di questo brano che implora dal Signore di essere preservati, liberati, custoditi da quella grande belva, che miete vittime continui, specialmente nel nostro tempo, che era lussuria. Gli sguardi sfrontati, la concupiscenza, la sensualità, la libidine, i desideri vergognosi. Tutto questo non si impadronisca di me, non abbandonarmi in balia di queste cose. Ecco, noi sappiamo che su questo punto, certamente, dobbiamo ricordare che la carne è debole, l'ha detto anche Gesù. Noi, tutti gli esseri umani, avvertono la ferita della concupiscenza, che viene dal peccato originale. Però la Chiesa ha sempre insegnato che, implorando umilmente, come fa qui il giusto, l'aiuto del Signore e con una ferma e risoluta volontà di stare lontano da queste cose, un oggetto delle occasioni, non si rimane appinghiati nell'onoraggio. E la testimonianza di tantissimi santi e sante, ma anche tanti convertiti, tanti consagrati, tante sante coppie, attestano che questo è vero. E danno la conferma esistenziale. Ecco, poi di nuovo torna, questo è un tema ricorrente, ci faremo, ci staremo facendo sicuramente caso in questo testo del Siracide, sull'educazione della bocca. L'educazione della bocca. Bellissimo termine. E che cosa succede? Il peccatore è vittima delle proprie labbra. Come? Anzitutto con la maldicenza e con la superbia, quindi non stare sempre a parlare bene di se stessi, o con alterigia, o con arroganza, o con presunzione, o con millanteria, eccetera, eccetera. Queste sono le prime forme di diseducazione della bocca. Poi c'è il falso giuramento, da cui che Dio ce ne scampia liberi, ma c'è anche la nomina del nome di Dio. Non abituarti a nominare il nome del santo. Chi ha sempre in bocca il nome di Dio non sarà senza peccato. Attenzione, eh? Quindi, che significa? Noi dobbiamo, per esempio, toglierci il brutto vizio che il 99,9% dei fedeli fa senza rendersi conto, per esempio, di usare il nome di Dio, della Madonna o dei santi nell'intercalare. Anziché dire, mamma mia, guarda che è successo, sappiamo, no? Che molto spesso si prende in prestito il titolo della Madonna, per usarlo come intercalare, no? O anche a volte per fare delle interiezioni, no? Nel nostro parlare. Io adesso non vorrei ripetere davanti al Santissimo Sacramento, anche se non lo farei effettivamente con intenzione peccaminosa, ma dobbiamo arrivarci, no? Quindi noi il nome di Dio lo dobbiamo nominare per invocarlo, per pregarlo, per lodarlo, per parlarne a proposito, ma non nell'intercalare, d'accordo? O per usarlo come condimento, oppure in maniera ripetente, pensiamo alle barzellette, insomma, sapevo il proverbio popolare, no? Scherza coi fatti e lascia stare i santi. E' un'altra forma di educazione da bocca, pensiamo che gli ebrei, penso che lo sapete, lo sappiamo tutti, che non nominano il nome di Dio chiamandolo per nome, quindi lo nominano Yahweh nemmeno quando lo trovano nel testo sacro, perché quando trovano il sacro tetagrata, quindi il nome di Dio rivolò a Mosè, non lo nominano così com'è, ma lo sostituiscono con Adonai, quindi non lo chiamano Yahweh, non hanno il coraggio per riverenza del suo nome, ma lo sostituiscono con Adonai, che è un sinonimo che significa Signore. Ecco, non dico di arrivare a tanto zelo, però anche nella, come dire, nella forma di vita comune, direttamente questa cosa non ci si fa caso, e non va bene. Chi ha sempre in bocca il nome di Dio non sarà esente da peccato. Ecco, poi c'è un modo di parlare che si può paragonare alla morte, e che deve essere respinto dagli uomini pili. Qual è? È la vulgarità. La tua bocca non si abbina in vulgarità grossolane. In essa, infatti, c'è motivo di peccato, è proprio una cosa brutta la vulgarità. La nostra coscienza deve essere... Dobbiamo chiedere al Signore che ce la faccia un pochino risvegliare, perché se noi ci pensiamo a quanto diventiamo brutti, per esempio, quando ci lasciamo andare a espressioni vulgari, la vulgarità è una cosa brutta, e non fa niente che oggi è sbaglierata i quattro venti, televisioni e media compresi, discorsi anche di personaggi importanti, adesso non voglio dire oltre che personaggi importanti, non fa niente. Chi ascolta le testimonianze degli esorcisti e legge, per esempio, i libri dove gli esorcisti raccontano le loro esperienze e vedrà che quando questi riportano per l'edificazione, qualche dialogo con i demoni, a un certo punto scrivono tra parentesi parolaccia, tra parentesi parolaccia, tra parentesi parolaccia, tra parentesi... perché il diavolo si esprime a parolacce. Il diavolo è, come dire, è il volgare per eccellenza, lo scurrile proprio, no? Quella volgarità che dà fastidio, che è bruttissima sulla bocca degli uomini. Ecco, non bisogna pensare che sia un peccatuccio leggero, una piccola bugia, una cosa brutta. C'è motivo di peccato in essi, in senso stretto. Quindi è peccato, non si fa. Ma c'ho un'abitudine che mi porto indietro da 50 anni. Certamente il Signore lo sa, forse non si riuscirà a liberare di queste cose dall'oggi al domani, ma l'importante è, come dire, cominciare a pensare seriamente che questo modo di esprimersi non va bene sulla bocca di un uomo pio. Un uomo pio non vuol dire che sia un vicotto o un... è un figlio di Dio, d'accordo? È un discepolo di Gesù, è un amico del cielo, ma ti pare che sulla bocca di Gesù e di Maria c'è una volgarità? O se un giorno andremo in paradiso qualcuno si esprimerà in maniera volgare, ma non esiste una cosa del genere, no? E quindi per quanto possiamo, quanto meno nell'intenzione, poi se qualche volta qualcuno dovesse scappare per cattive abitudini, cioè il confessionale, è pazienza, ecco. Però un conto è che io non ci faccio alleanza, quindi non dico, vabbè, ma che sarà a fare? L'ho detto una cosa, ma non sarà la fine del mondo e poi quando ce vuo ce vuo. Ecco, un conto è che io interiorizzo questa cosa, la tua bocca non si abilia con carità grossolane perché in essi c'è motivo di peccato. Questo è il libro del Siracide, è parola di Dio, non sono cose che si possono mettere in discussione, diciamo così, da parte chiaramente di chi ha la fede divina e cattolica, da chi crede che la Sacra Scrittura sia rivelazione, parola di Dio, no? Ecco. E poi, per abitudine, non dire sciocchezze. Quando si parla a bambera, quando si dicono stupidaggine, quando si dicono sciocchezze, quando si parla con precipitazione, nel molto parlare non manca mai il peccato, diceva Santa Teresa, chiosando proprio un'espressione dei libri sapienziali, no? Perché il parlare a bambera, il parlare troppo, il raccontare, per esempio, gli affari propri, troppo in giro, a persone, insomma, che non è detto che poi possano godere della nostra fiducia, lo sbattirare i fatti altrui, il fare domande indiscrete, personali, al prossimo. Sono tutte forme da farci attenzione che devono entrare anche nei nostri esami di coscienza. E l'ultima cosa, ecco, non la più grave, ma ecco che viene severamente, diciamo, stigmatizzata dal testo, è chi, quando parla di giuria, offende di fama, mette in cattiva luce il prossimo. E qui la sentenza è brutta, perché un uomo dice, abituato a discorsi ingiuriosi, non si correggerà in tutta la sua vita. Certo, adesso che siamo nel Nuovo Testamento, dobbiamo anche ricordare le parole di Gesù, che nulla è impossibile a Dio, quindi sia possibile che un ricco entri nel Regno dei Cieli, nonostante che un cammello non passa nella pruna di un ago, sarà anche possibile che un ingiurioso per professione si corregga. Però ecco, l'uso di questa espressione fa capire quanto chi è abituato a fare questo farà una fatica enorme per togliersi questo dizio. Noi non dobbiamo mai parlare male di nessuno, non dobbiamo affendere a nessuno, ingiuriare a nessuno, ma neanche nel pensiero. Cioè, la fase matura, che io non devo dire, guarda questo, dico un'espressione che si può dire davanti al Santissimo Sacramento, guarda questo che è stolto, non lo devo neanche pensare, perché se lo penso poi glielo dirò, o se non lo dico a lui, glielo dirò a qualcun altro, e guarda quello quanto è storto. Quindi, perché il pensiero non lo vede il prossimo, non fa male al prossimo, direi, quindi non lo offende direttamente, non fa male al cuore di un terzo a cui lo dovessi rivolgere, così comincia a pensare male del prossimo, ma fa male comunque la carità. E Dio lo vede. E ci ha insegnato Gesù, no, che per stroncare la radice dei nostri cattivi comportamenti dobbiamo andare alla radice, appunto, che è il cuore, che sono i pensieri. Ecco, quel pensare bene, quello avere sempre a cuore la stima, l'onorabilità, il rispetto, che è dovuto anche alla peggiore delle persone di questo mondo. Dio non mancherà alle persone che sono cattive, che non si pentono delle loro azioni di farli passare non solo un brutto quarto d'ora, ma anche di più. Ecco, ma noi no, ecco, noi non scendiamo mai a queste a queste bassezze. Certamente, quando di una persona non si può parlare bene, non si possono diventare bugie. E i Santi dicevano, se non puoi parlarne bene, taci, parlate qualche altra cosa, non parlare di di quello. Santo Antonio, padre che stiamo vestendo in questi giorni, grande padre del deserto, come tutti quanti monaci, era grande maestro ecco, di questa arte dell'uso corretto della parola e del silenzio con cui si impara ecco, anche a usare bene del tono della parola. Siamo dato adorato e ringraziato di momento. e ringraziato di tutto. Grazie.